ciao mostri amici benvenuti in questo nuovo video sulle forbici in mano perché adesso andremo a devoxare robe castigna in versione basica avete già visto infatti si vedono qui che ho già fatto l'unboxing di venus vi lascio qui le informazioni che appunto dove c'è l'unboxing di venus che già deboxata tipo stupenda e volevo fare ancora qui la lascio qui dopo la devo mettere in esposizione l'ho lasciata con chi ci fa l'ultimo compagnia per l'unboxing di rubecca queste due bambole le ho comprate insieme però vi spiegherò meglio sulla recensione di venus la situazione allora questo unboxing è un po diverso perché appunto adesso sto parlando di solito nei unboxing vi metto la musica comunque adesso durante l'unboxing non parlerò comunque direi senza entugiare di iniziare a deboxare appunto robecca che è tipo da due giorni che un giorno che fa l'unboxing non parlerò di solito non parlerò di solito non parlerò di solito non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.